Ma qua la dieta, mi piacciono i pulpetti, mi piacciono i cotoletti, e ci mangiate i quattro, venga a farmi il sogno e il set, con sole e notte, con stare a casa vostra. 1, 2, 3, quindi inizi tu, che sasso pitti la tua madre, sai dove combattono i biscotti? Nel ringo? Come si chiama? L'uomo? Allora c'è un uomo che, come si chiama l'uomo? Sto aspettando che abbia levagnato, appuntamento a 7 e mezza, sulle 8 e 10, sono molto teso a dire di vederlo, perché ce n'è che ci divertiamo sempre tantissimo quando stiamo insieme, spero solo che siano piacevole serate, perché come vedete ho messo una maglia bianca, mi sono manco fatto i capelli, c'è alzi i capelli, il capello è bagnato, devo vedere, cazzo ne fega a me, un taxi è venuto? Ci ho fatta, ci ho fatta, tutto di tutto, tutto quello che era a mia disposizione per arrivare in orario, ho camminato velocemente, ho preso un taxi. Sei contento di passare stasera con me? Molto, ma Meteo perché non viene a queste cose? Perché Meteo non ama ridere, noi siamo avanti della battuta, una burla italiana, una burla eh. Che tazza è sta maglia? E' un pancettino un po' di fai a scelta della pizza stasera. Un tipico piatto milanese che io voglio gustare, i prosciutto e i funghi sono... Campagna, Interland. Pizza 43! Oddio, grazie. E' vero o no? State insieme. No, siete amici? E' stato facendo un momento molto, mi vergogno per questo periodo, molto italiano, siete amici, lei ha fatto una, lei ha fatto una. E' stata una bella serata. Piacevole. Intento di dare un consiglio comunque, anche magari delle coppiette, no? Cioè, se volete uscire con una ragazza, portatela a uno spettacolo comico. Riderà sicuro. E voi non, cioè, non dovete fare niente per farla ridere, perché ci penserà chi stai pagando. Capito? Paghi una persona per far ridere la tua ragazza, e lei sarà contenta che tu l'hai fatta ridere, anche non avendola fatta ridere. E poi ricicli le battute facendo, ti ricordi quando ha detto? Perché la rifà? Esilarante. Se siete in giro ragazzi, andate a vedere Luca Ravenna, perché è incredibile, se alzo la musica al massimo così, questi 20 minuti di tratta, non ci parliamo. Va bene. Cioè, non devo pensare a che cosa dirti. Gigi da adesso? Nico Pandetta. Nico Pandetta.